Circa il 50% delle infezioni da candida si verificano nei reparti di medicina interna e solo il 25% nei reparti di terapia intensiva. Ecco perché l'internista è coinvolto in prima linea nella prevenzione e poi nel trattamento di queste infezioni che possono essere anche mortali. Noi ci facciamo raccontare esattamente di cosa si tratta dal dottor Carlo Tascini, direttore della prima divisione di malattie infettive presso l'ospedale Cotugno di Napoli, che ha tenuto qui a Sorrento al ventesimo congresso Fadoi una relazione molto interessante proprio su questo tema. Sento dottor Tascini, ci aiuti a capire per bene il problema appunto nelle sue dimensioni generali. Innanzitutto cosa sono le infezioni da candida? Ma bisogna dire prima di tutto che la candida è un normale commensale dell'uomo, vive nel intestino umano, nel tratto gastrointestinale, però se malauguratamente riesce a passare nel sangue, quindi a dare un'infezione sistemica, può essere anche molto grave, con una mortalità anche molto elevata. Noi registriamo un 35% di mortalità in corso di candidemia e la candida è una delle cause più frequenti di infezione del torrente batteriemico in ospedale, è la quarta causa in genere, quindi è sempre più frequente e è sempre più frequente in medicina interna dove si verificano il 50% delle candidemie degli ospedali. E perché questo avviene? Perché in medicina interna purtroppo ci sono sempre più pazienti fragili, difficili da trattare, che quindi hanno necessità di mettere dei device, dei strumenti invasivi come il catetere venoso centrale, il catetere vescicale, oppure sono difficili da alimentare. Ecco, parlando di patologia, quali sono i pazienti maggiormente a rischio di questo tipo di infezioni? Appunto, i pazienti della medicina interna, che sono pazienti anche grandi anziani, sono pazienti che hanno un patrimonio venoso scarso, quindi per fare le terapie, per farle alimentare abbiamo bisogno di inserire dei cateteri venoso centrali e questi sono sempre più frequenti nei nostri pazienti, sono la porta di ingresso per questi germi, come la candida. Noi possiamo distinguere differenti tipi di catetere venoso centrale. Uno ad inserzione centrale, appunto, nelle vene del collo, che hanno un decorso di pochi centimetri e arrivano direttamente al cuore. Oppure c'è un catetere venoso centrale a inserzione periferica, l'acronimo è PIC, che viene inserito sulle vene del braccio e dalle vene del braccio arriva direttamente al cuore. Ora, questo catetere, se correttamente gestito sia all'interno dell'ospedale che fuori dall'ospedale ci sono dei team appositi di infermieri che si chiamano PIC team in vari ospedali italiani, che lo inseriscono e ne fanno i controlli temporanei di cui ha bisogno il catetere per essere efficiente, per non infettarsi, allora in questo modo le infezioni sono rare. Ma se noi non prepariamo il nostro paziente a una gestione corretta, le infezioni batteriche e fungine, specialmente da candida, sono frequenti. Perché sono frequenti? Perché questa candida produce una specie di matrice zuccherina che si chiama biofilm, che si attacca alla plastica e proprio infetta specificamente questo tipo di cateteri. Ecco, ci sono altre strategie preventive che si possono mettere in atto, qualche, diciamo così, suggerimento, visto che lei è un infettivologo, che possiamo dare all'internista? Beh, l'internista ovviamente deve considerare per ogni paziente quando è il momento di mettere questi cateteri, ma se non ne ha più bisogno il paziente li deve togliere. E spesso l'alimentazione parenterale, che è un concentrato di lipidi, di zuccheri, che permettono anche la crescita di questi microorganismi, bisogna farla solo quando è strettamente necessario. Bisogna ricordarsi che l'alimentazione interale e la via naturale, quando è possibile, va fatta sempre, va ripresa il prima possibile al posto di quella parenterale. In questo modo possiamo cercare di evitare molte infezioni ematiche da candida. Senti, la collaborazione tra l'infettivologo e l'internista è molto importante, lei l'ha anche documentato, dove c'è l'internista, dove c'è l'infettivologo, i tassi di mortalità sono più bassi. Ecco, come deve essere strutturata questa collaborazione? Questo ovviamente non è cicero prodomo sua, però è ovvio che mettere insieme le differenti conoscenze tra l'internista e l'esperto di terapia antimicrobica e di diagnosi antimicrobica, che può essere l'infettivologo, in certi ospedali è l'internista stesso che approfondisce questi argomenti, però quando c'è questa sinergia, o in una singola persona o tra più persone, almeno nel nostro caso, in uno studio retrospettivo che stiamo sottoponendo alla pubblicazione, abbiamo dimostrato che se il paziente, la diagnosi viene fatta di candidemia insieme dall'infettivologo e dall'internista e la terapia è una terapia tempestiva prescritta dall'infettivologo, in questi casi la mortalità si riduce in modo statisticamente significativo, cioè che non ci sono altre variabili che interferiscono sulla mortalità, ma è proprio l'intervento dello specialista che aiuta a ridurre la mortalità.